Sicuramente i numeri in riduzione dei pazienti Covid ci stanno permettendo di fare una pianificazione e conseguenziale programmazione della riapertura delle attività no Covid presso il Presidio ospedaliero di Biceglie. Con la direzione strategica, con la direttrice, la dottoressa Di Matteo e il direttore sanitario, il dottor Celsi, abbiamo più o meno profilato quello che può essere una linea attuativa sintetizzando la riapertura del Dipartimento Materno-Infantile quindi ostetricia, ginecologia e pediatria no Covid e le attività di natura chirurgica. Oggi in sede di sovraluogo ho fatto visionare quelle che sono le aree che erano già pronte per un eventuale di immediato shift. Sicuramente i numeri dei pazienti Covid e l'attuale organizzazione strutturale non consente per motivi di sicurezza clinica poter tenere i due percorsi possibili. Questo lo potremo fare nel giro dei prossimi giorni quando avremo una riduzione del numero dei ricoveri, quindi con ritorno a quello che era già stato definito in una fase, ovvero un doppio percorso di pronto soccorso, un pronto soccorso no Covid e un pronto soccorso diciamo Covid con un OB, le malattie infettive ancora diciamo a sostegno e a supporto delle attività Covid, il Dipartimento Materno-Infantile con ostetricia, ginecologia e pediatria è in una fase immediatamente diciamo così di ripartenza insieme alle attività chirurgiche. In una seconda fase ripresa delle attività nelle aree mediche, quindi nella medicina interna e lungodegenza e nella cardiologia. È chiaro che in un arco cronologico sarà definito al termine di una verifica anche sui dati che in questo momento dobbiamo estrapolare per poter presentare alla direzione strategica quelli che possono essere i punti di partenza. È chiaro che auspichiamo che entro aprile, la prima quindicina di giorni di aprile, possiamo già ripartire attraverso una pianificazione come poc'anzi diciamo esplicitata che consente di restituire alla collettività quello che è giusto cioè le attività assistenziali no Covid. Nel frattempo sicuramente alcune attività quale la diagnostica che consente di avere un doppio percorso, quello relativo dedicato ai pazienti oncologici, quindi assicureremo anche questo, continuiamo ad assicurarlo, così come cercheremo di riprendere le attività della radiologia tradizionale anche con l'uso della TAC attraverso una serie di programmazioni interne che possono rendere fruibili anche per il territorio l'utilizzo delle grandi macchine di diagnostica, quindi è la radiologia tradizionale. Tutto questo ovviamente sarà fatto un'adeguata programmazione e sarà presentata alla direzione strategica. Nei prossimi giorni con il dottor Matera vedremo gli interventi che sono necessari per poter rifunzionalizzare il blocco parto con IV inclusa, una sala operatoria dedicata e quindi cerchiamo un attimino di far mettere dei punti di riferimento per quanto riguarda la tempistica per la collettività.